Oggi incontriamo padre Franco Muscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo. Padre Franco, le istituzioni latitano, allora ha preso lei carta e penna e ha scritto al ministro Cingolani, perché evidentemente a lei la situazione ambientale, questa emergenza ambientale che il territorio di Manfredonia sta vivendo da anni, anzi da decenni, evidentemente le sta a cuore. Che cosa ha scritto Cingolani? Beh, innanzitutto vorrei dire che le istituzioni di Manfredonia latitano anche per motivi molto pratici, insomma siamo a tre giorni, quattro, insomma dal ballottaggio e quindi chi ha in mano le redini della città non sarà quello che tra una decina di giorni dovrebbe confrontarsi con il fatto a cui ho fatto riferimento relativamente al ministero dell'ecologia e dell'ambiente. Ho scritto a Cingolani perché mi sembrava ci fosse in questo momento una carenza di comunicazione. Eni Rewind ha chiesto al ministero una conferenza dei servizi decisoria che è stata concessa da parte del ministero con data 30 novembre di questo mese. 30 novembre sono nove giorni dopo il ballottaggio e non credo che la nuova amministrazione, il nuovo sindaco abbia la possibilità di prepararsi per essere presente in modo degno e a conoscenza dei fatti di quanto avverrà in quella conferenza e quindi ho deciso io di chiedere direttamente al ministro Cingolani di aspettare un po' più di tempo, di riviare almeno di un mese per dare la possibilità alla nuova amministrazione, chiunque sia, di prepararsi e che per questo vengano messe a disposizione anche la documentazione e non rimanere chiusa perché sarebbe di nuovo la stessa cosa. Ecco, ma al di là di tutto questo lei è molto preoccupato della situazione ambientale che vive questo territorio, perché? Ma io sono convinto che l'ambiente, come è scritto nella Laudato Si, sia un qualche cosa di molto complesso, quindi non è solo, è semplicemente il territorio geografico di competenza, quello è il punto di partenza. Poi siccome tutto è connesso, da quello dipendono le relazioni sociali, le situazioni economiche dell'ambiente e del territorio e i bisogni che su questo territorio nascono e il futuro di questo territorio. Quindi bisogna continuamente collegare situazione ambientale che qui è ferita da un fatto di 45 anni fa, non sanato e dimenticato per lungo tempo, ma che continua a creare paura, perplessità e per cui frena la paura e la perplessità anche la presa di decisioni corrette, favorendo semplicemente chi naviga volentieri nell'osco e nel buio e quindi favorendo semplicemente la criminalità organizzata, le eco-mafie che su questo territorio continuano a fare i loro interessi e hanno tutto l'interesse che rimanga così. Quindi è un territorio da risanare ambientalmente dal punto di vista naturale, socialmente dal punto di vista delle relazioni, economicamente nel dare un futuro sostenibile all'altezza della vocazione di questo territorio e di questo popolo. Ne hanno bisogno tutti e i tre elementi vanno connessi. Non credo siano decisioni che possano aspettare semplicemente ad un comune, Manfredonia, Montesant'Angelo, Mattinata, ma siano cose da vivere veramente insieme perché tutti e tre e anche di più, l'intero Gargano, la provincia, la Copitonata, tra loro sono connesse, sono realtà veramente unica. Meno male che si arriva anche a Manfredonia, si dovrebbe, insomma, ad una situazione politica costituzionalmente più corretta per cui le amministrazioni, democraticamente elette, possano tra di loro veramente collaborare non guardando solo al proprio interesse di parte ma all'interesse comune che è poi bene comune di tutto il Gargano. Lei è preoccupato anche per la quasi imminente realizzazione di un altro impianto in quell'area industriale che non trova pace, evidentemente? Io sono convinto se è SIN, significa area di interesse nazionale e industriale, quindi quell'area lì è stata segnalata e individuata a livello nazionale come un'area industriale, quindi la vocazione futura deve essere una vocazione industriale. Il problema è che deve essere una vocazione industriale sostenibile e devono essere risolte le problematiche che da 40 e più anni continuano ad essere evidentemente non risolte e che latitano. E quando si fa bonifica deve essere fatta bonifica, non semplicemente detto che si sta facendo. Se dopo 45 anni le falde non sono bonificate per niente, non si sa se il sistema veramente funziona, la parte amare non si hanno notizie e quella di superficie è bonificata ufficialmente solo al 16-20%, mi sembra un po' poco che cosa abbiamo fatto, chi ha veramente controllato. e quindi ci sono delle responsabilità secondo me grandi da individuare e responsabilità di futuro da mettere in atto.